musica 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 vai vai che sto dritto marzo comunque non vedo l'ora domani di giocare a COD io te lo giuro sul PC lo voglio proprio ti giuro domani sul PC lo voglio provare perchè sono sicuro che mi divertirò molto di più, pure io però mi dice che non posso cazzo c'era il P90 si hanno preso dove sei scesa la cassa? sotto, sotto di te c'è una la cassa? ma sono io eh la si è scesa la cassa eh sotto di te maiale schifoso power mira dov'è? eh L no se vuoi la C scusa andate a far me il materiale oh 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 dove dove? dove? ah dietro a mattoni sta una mena col fondo quale violenza me lo sei ricendo? vogliamo andare? uno davanti a me oh si parchetto mica tu sei già là gli scheletri sono sceli fuori i scheletri sono sceli fuori i scheletri sono sceli fuori madonna che mira di me vieni da me vieni dal lato mio però vieni dal lato mio vieni dal lato mio vieni dal lato mio vieni dal lato mio non ho colpi di pompa ne ho quattro si è successo su successe cose marzone in caso è entrato dentro con una cattiveria indicibile a questo eh avevo buttato lei il bombetto ho detto non mi butto che poi è eh io pensavo che erano le loro scusa quindi non entravo stavo fermo ah marzo lo sai che la nike ha fatto l'airmax dei fanatic? la posso portare io la pozza le airmax dei vabbè ma qua serve che mi inviate un poco di cose le vuoi? ma eh me le metto che si eh sono belle pure sono limitate pure ma non lancia chiaramente mi ha preso dal muro bravo marzano ma non gli ho fatto un cazzo tra stiamo continuando a tirare tutta merda come va? vado a fare in culo va? vado a fare in culo va? vado a fare un cecchino buono vado a farlo vado a farlo come va? mi sento molto molto fiacco ragazzi perché non respirando tanto bene sto prendendo poco ossigeno e quindi mi sento stanco a merda forse da 50 marzone di dalle bozzette la porto io o mi darà un medikit la lasciamo io ho sei pozzetto di caldo dove sono i server in europa parigi e francoforte non mi sa parigi e ora lo apre niente olanda l'altro non so se è francoforte non lo so sicuro altrimenti è quello poi non lo so è come quelli che di twitch perché non respiro bene perché sto male con i bronchi dopo il games week qualcuno mi ha c'era un appestato al games week siamo tutti male qua 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 sparano 2 10 è una macchina che mi arriva ad otto cazzo io sono dietro ci sono per darti una mano eh ti devi dare tempo ma anche se ne stanno scappando allora vieni allora vieni andiamo da questi mi devo mettere la cosa per fare il bagnop sulla rotella in modo che la spammo ma che è il bagnop? eh ti devo far vedere il video no so che cos'è il bagnop dico come si fa ma donna c'è quello in forma fantasma che gli è saltato addosso sei tu? no ok prendo pure io il coso eh l'invisibilità gli vado da dietro ma dove sta? va sopra la montagna vediamo se mi resta addosso non arriva di colpi ma che sto morto mi hai fatto cadere tu l'hai fatto la cosa con la giamperina? no sto arrivando a mano oh cazzo sta restando se fai cadere la struttura è attaccato veramente a due cazzate o mi resti scegli tu o la fai cadere o la spacco dai devi spaccare a ovest c'è una scala a ovest a ovest c'è una scala sola mezza distrutta la scala a ovest la scala a ovest oh dai marzo no marzo stanno scendendo sono sopra non ci credo una scala c'era oh e non avevo capito bravo marzo l'hai glacciata comunque sei un cazzo di god no sei tu che sei un god ma magari allora marzo tu lo sai che se prendi questo e poi prendi il giamperino e poi spami la barra spaziatrice quando atterri dico eh salvi si voli qua guarda quanto vado di veloce eh ma non ci riescono più ma non ci riescono più ah mi fa piacere come cazzo arrivavo là ce l'ho davanti che mi stanno correndo davanti non ho tanti materiali stanno giù finito lavorando stai là what marzo dobbiamo andare io non ho materiale eh mi entrano in campo e non puoi spiegarli sto giocando se no non ho mai col cazzo se ne vanno tu cosa hai per me che mi posso curare no mi sei oh è diventato nero lo schermo uno ti è buttato giù l'altro sta salendo ok non mi stavo di pochissimo sanno giocare quei due te lo dico il tato è toccato go 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 lo so lo so lo so pensiamo all'altro però c'è pure uno che ti spara da sud e che cazzo è mi infilo mi infilo mi infiltro bravo marzo il tato uno c'hotto quarantanove vai è il momento è il momento di andare aggro bravissimo ora penso agli altri oh la trappola ha messo vabbè dai che sfumore eh marzo non potevo fare no ma non puoi no ma qua mi levo un bocco però dai le trappole ancora non le levano dai ma che cazzo mi serve la trappola che è sciotta ma fammi fare 20 di danno porca puttana wow wow oh buono come il pane madre non è non è salito Sì Ho tanta capiccia Erano bravi a giocare Sì, stavano a svuettare Stavano a giocare pure le chiavi di casa Grazie per la visione